Nel pieno della preparazione fisica, i biancorossi, dopo i quattro vittoriosi set disputati con Milano nei giorni scorsi, hanno sostenuto oggi al Palabanco un nuovo test con Trento dell'ex coach Angelo Lorenzetti. Come detto, grandi aspettativi intorno al nuovo gruppo allestito dal duo Molinaroli e Roberto Pighi, con una campagna acquistica di fatto rivoluzionato il sestetto titolare che poggerà in maniera consistente sull'asse tutto cubano Ierezuelo Hernandez Marshall e proprio Pighi oggi ha parlato con grande entusiasmo ai nostri microfoni. Sono molto preso da questa nuova stagione sportiva, credo che ci siamo impegnati molto bene durante l'attività della campagna degli acquisti, abbiamo comprato dei giocatori importanti, sia maturi sia meno maturi, ma certamente sono soddisfatto di quello che ho visto durante la fase della preparazione. Voglio ringraziare prima di tutto LPR e la famiglia Ricci, senza la quale, visto che c'è stato un po' di confusione attorno anche a questa partnership, probabilmente il primo gradino, se si fosse incrinato definitivamente sarebbe stato tutto più difficile. Durissimo il compito che attende i piacentini anche alla luce della corposa campagna acquisti operata dalle principali rivali, con Perugia e Trento, che paiono partire con qualche metro di vantaggio su tutte in una Superlega che avrà comunque in Modena la regina da scalzare dal trono tricolore. Qual è l'errore che secondo lei non si dovrà ripetere quest'anno per riuscire a lottare fino alla fine per il massimo degli obiettivi? Più che un errore che abbiamo commesso, io credo l'anno scorso, i grandi errori siano stati una preparazione sicuramente scarsa e non di livello per quanto riguarda la Superlega, quindi è stato un errore lasciare la preparazione tecnica a chi probabilmente, senza dargli colpa, aveva troppa poca esperienza e soprattutto il fatto che non era presente il coach. Credo che questi siano stati i due errori principali. Da quello che ci dici, dall'entusiasmo che traspare anche dalle sue parole, ci parla di capire che il matrimonio pighi-pallavolo proseguirà ancora a lungo? Io è quello che ho intenzione di fare, non mi sono posto degli obiettivi nel breve termine, certamente in poco più di un anno non si può pretendere chissà cosa, ma attraverso il nostro incredibile network di soci minori, ma tutti potenzialmente in grado di darci una mano direttamente e indirettamente, questa è la mia sfida e voglio dare a Piacenza due ore di spettacolo sportivo che nessun altro sport oggi a Piacenza possa offrire e come sempre avete sentito nelle mie dichiarazioni, a me piace poter pensare di vedere il palazzetto con 4.000 persone come ai tempi del Copra Campione.